Il mistero dell'ambiente boccia per la seconda volta il piano Edison riguardante la bonifica delle discariche di bus e piano d'orta e l'azienda dovrà presentare proposte differenti da sottoporre alla conferenza decisoria. Un secondo stop che apre la strada dunque alla rimozione totale di rifiuti di quella che è stata definita la discarica dei veleni. Tra le varie opzioni al vaglio Edison ne aveva scelta una che avrebbe dovuto cuocere a 100 gradi rifiuti per far evaporare la parte contaminata. Una soluzione che però non ha convinto gli enti a partire da Ministero, Regione, Abruzzo e Comune convinti che sia indispensabile rimuovere il terreno inquinato e che il desorbimento non sia sufficiente per risanare i terreni contaminati della discarica Tremonti. Una linea dura, quella tenuta finora, che giunge dopo dieci anni dalle scoperte. Nel dettaglio sulla discarica Tremonti il Ministero, di concerto con le altre parti istituzionali, ha chiesto a Edison di presentare entro il prossimo 31 gennaio un progetto definitivo, complessivo, che deve essere finalizzato alla rimozione totale dei rifiuti. In dettaglio dovranno essere previste diverse fasi di intervento, differenziate per le tre aree, nord, centrale e sud del deposito. L'area nord è quella che ha la più alta priorità, non solo perché contiene la parte più elevata di inquinanti, ma anche perché le ultime indagini dell'Arta hanno evidenziato un pericolo di inquinamento esterno. Una diversa strategia dovrà essere utilizzata per le due aree sud e centrale, dove il progetto dovrà prevedere che si proceda all'immediata rimozione dei rifiuti. Il tutto dovrà avvenire con interventi in parallelo nelle varie zone, in modo da accorciare i tempi. Quella del 31 gennaio del prossimo anno sarà infatti una conferenza di servizio decisoria, in modo da arrivare finalmente alla bonifica. Sull'ex impianto di Piano d'Orta sono previste invece misure urgenti per il trattamento delle falde, con l'avvio di un protocollo per il controllo delle polveri. Al di là dei primi interventi urgenti, si dovrà poi procedere alla bonifica definitiva con il relativo progetto da presentare entro il 20 febbraio. La provincia di Pescara, insieme ad Arta, Asle e Regione, ha chiesto che ogni operazione sia accompagnata da indicazioni certe sui tempi e sulle date di svolgimento per poter effettuare, in tutte le fasi, i necessari controlli. Ci auguriamo, hanno commentato Lega Ambiente, Bussi Ci Riguarda e WWF, che i tempi siano rispettati e che la stringente azione positiva del Ministero porti finalmente a una bonifica attesa ormai da troppi anni. Soddisfatto anche il forum H2O per la compattezza degli enti davanti alle proposte che giudicava dilatorie di Edison e auspica di recuperare il tempo perduto.